SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG dedicato agli sport outdoor di montagna. Questa settimana una puntata che spazia dallo sci alpinismo allo sky running. Alcune sorprese e importanti novità dal campionato italiano di sci alpinismo dedicato alle categorie giovanili. Inno di Mameli, oro al collo e nuovo titolo italiano per Davide Gusmeroli, Giulia Murada, Alba De Silvestro, Davide Magnini, Nadir Maghe e Martina De Silvestro. Il Tour de Sars 2015, gara di campionato italiano riservato alle categorie cadetti, juniors e espoir, è stato un vero successo. Nonostante la scarsità di neve, gli organizzatori sono riusciti a individuare un percorso ad anello interessante, sia per i giovani concorrenti, che l'hanno apprezzato molto, sia per i tifosi, che in questo modo hanno potuto seguire più da vicino le varie fasi della gara. Anche dal punto di vista tecnico, la Kermes della Valbadia non ha lasciato niente al caso, con salite e discese tecniche e tratti a piedi, che hanno messo alla prova, da ogni punto di vista, la condizione fisica e la capacità degli atleti di interpretare la gara. A rendere ancora più magica l'atmosfera è stata la spolverata di neve arrivata alla vigilia della manifestazione, e il sole splendente è il giorno della prova tricolore. Altrettanto spettacolare è stata la gara che ha coronato i sei nuovi campioni italiani, al maschile e al femminile, della categoria giovani. Pizzo Tresignori, confermato, confermatissimo, il campionato italiano di sci alpinismo dedicato alle categorie senior e master. Nuova location e stessa data per la classicissima lecchese del Pizzo Tresignori. La gara di Premana, giunta alla sua 36esima edizione, valevole come prova unica di campionato italiano, nonché come tappa del circuito di Coppa Italia, è stata confermata con un'importante novità. Vista la mancanza di neve nella zona dell'Alpe Paglio, i ragazzi della S Premana non si sono persi d'animo e hanno optato per il classico piano B. Dopo aver sentito i pareri e le disponibilità di varie località del Comitato Alpi Centrali, si è deciso di spostare il campo gara su quello che di fatto è l'altro versante del Pizzo Tresignori. La Val Gerola, zona della Valtellina, confinante con il territorio premanese. Sono in corso di definizione proprio in questi giorni tutti i particolari organizzativi e i responsabili del percorso, col prezioso aiuto degli amici sondriesi, sono al lavoro per la definizione del tracciato. Il percorso di gara si svilupperà fuori dalla pista, nelle zone vicine agli impianti, con arrivo nelle vicinanze del rifugio salmurano, in modo da rendere la gara fruibile anche a un pubblico numeroso. La base logistica sarà invece il palazzetto polifunzionale Pala Gerola, nel comune di Gerola Alta, dove si svolgeranno le premiazioni e il pranzo conclusivo. Oltre all'importanza del titolo in paglio, la gara sarà di fondamentale importanza anche per la direzione agonistica dello scialpinismo, che proprio in occasione della Pizzo Tresignori definirà la competizione della squadra nazionale, che la settimana seguente difenderà i colori dell'Italia ai mondiali di Verbier, in Svizzera, dal 6 al 12 febbraio. Sono quindi attesi al via tutti i migliori atleti di specialità, che si daranno battaglia per un monte premi di oltre 400 euro. La gara premanese però vuole avere, come da tradizione, un occhio di riguardo per tutti i concorrenti. La quota di iscrizione di 50 euro garantisce a ciascun concorrente un pacco gara di valore, con un'imbragatura dalla gara camp, prodotti integratori racer, articoli da taglio dell'artigianato premanese, oltre al pranzo di chiusura. I prossimi giorni saranno ricchi di novità ed aggiornamenti continui riguardo i programmi, percorsi gara e informazioni logistiche. Tutte le news, come al solito, le troverete su www.sportimontagna.com Facciamo un passo indietro e parliamo della montanatta, ovvero della gara più dura tra le notturne. Tadai Piuk è il nuovo re di Salbach. Al femminile, invece, ennesima conferma per Michaela Esle. Il gigante buono vince la montanatta battendo un record storico, il 2 ore 26, di Guido Giacomelli, che durava da otto anni e entra nella leggenda di questa durissima gara in notturna austriaca. Festa grande in casa Cresi, ma soprattutto definitiva consecrazione per un atleta che in molti, sino a qualche anno fa, conoscevano solo per le performance podistiche. Per lui un 2 ore 24 che sarà veramente duro da battere. Degno di nota anche l'esordio del campione piemontese Damiano Lenzi. Alla sua prima volta in un'edizione dal livello stellare, l'alpino del CS Esercito ha staccato un argento che la dice lunga sul suo potenziale. Dopo alcune fiammate dello scorso fine settimana in Coppa del Mondo, il messaggio dato a Salbach è sin troppo chiaro. Quest'anno lo sarà ancora uno degli uomini da battere. Bene anche il francese del team LASPO, William Bombardion. Al femminile, invece, vittoria di Michaela Esle in 3 ore 10, secondo posto con 13 minuti in meno rispetto al suo tempo del 2014 per la rientrante Raffaella Rossi. Dopo due brutti infortuni alle ginocchia, la portacolori dello Ciclè Valtartano, qui in gara come ambassador la sportiva, ha dimostrato di esserci e che il successo di due anni fa al trofeo mezzalama non è stato casuale. Nel tour doppietta la sportiva con Neitch Kuhar davanti ad Amin Neurater e David Tony. Ai piedi del podio due bondagnia come Philippe Goesch e Ivo Zulian. Nella gara in rosa esordio con vittoria per Elena Nicolini. Nella prova vertical, beh, non c'erano dubbi, ha vinto ancora una volta l'héroe Urban Zemmer. A fine gara abbiamo intervistato per voi due assoluti protagonisti, ovvero Tadej Piuk e Urban Zemmer. Vittoria da record, sono contentissimo, ho battuto uno, per me è il mio idolo Guido, comunque il numero uno anche meglio di Kylian. Oggi erano le condizioni buone, c'era un livello alto, non me l'aspettavo sicuramente, ho spinto al massimo e sono riuscito a fare anche questo record e questa vittoria, è importantissima. Sulla seconda salita, quando Hoffman ha un pelo mollato, ho detto adesso provo ad andare a tutta, sapendo che poi sull'ultima, essendo un po' più pianeggiante, avrei potuto spingere e fare ancora la differenza. Allora ho detto do il massimo, do il 100% e proviamo ad andare a vincerla. Per il record, alla fine, l'ultimo scollinamento, ho detto dai che se vado giù forte anche in discesa, salta fuori anche sto record che appartiene comunque a Guido dal 2006 ed è stato eccezionale riuscire a farlo e speriamo anche che duri un po' negli anni. Adesso quest'anno riesco ad essere un po' più libero anche col lavoro, spero di riuscire a fare più gare possibili e dopo la ciliegina sarà sempre il Sella Ronda. La quarta volta da Salpac qua ho vinto e sono contentissimo e sempre ogni anno c'è un po' diverso, sembra un po' di neve e poi il tempo anche così, ma sono contentissimo. E qua è sempre un po' difficile perché noi partiamo dopo tutti quanti e poi devi sempre un po' vedere perché noi siamo sempre dentro tutto nel virbolo qua e poi devi sempre un po' vedere dove sei e poi alla fine vedi un po' che sei davanti, ma quanto non vedi mica. Diamo uno sguardo all'estate con la conferma di doppia finale World Series per la Limone Xtreme. Numeri da capogiro, uno show e un livello atleti mai visti in Italia, un clamore mediatico senza precedenti, il fascino di correre un vertical in notturna a picco sul lago, una Sky che ha messo dura prova alle gambe di campioni e di semplici amatori, una location a dir poco suggestiva, questo e molto altro è la Limone Xtreme. Vi sono gare che da anni ambiscono una vetrina internazionale senza mai riuscire a raggiungerla e altre che dall'esordio sembrano predestinate a dettare il passo al movimento. Questo è il caso della gara disegnata ai confini tra Lombardia e Trentino, una gara che in solo a quattro anni è stata prova conclusiva di campionato italiano e per ben due volte finale di Skyrunner World Series. Forte dei successi organizzativi conseguiti, la ESF, International Skyrunning Federation, ha nuovamente dato fiducia a Franco Codogno in France, inserendo la Kermes Bresciana nel circuit 2015 come ultima tappa di specialità vertical e sky race. Ma quali sono i motivi di una crescita esponenziale che hanno portato questo evento tra le prove clou a livello mondiale? Innanzitutto verrà precisato che la SS limonese vanta un curriculum organizzativo non indifferente. Pur essendo una new entry nel mondo Sky, il club dell'Alto Garda è riuscito a proporre per circa 18 anni una Kermes di mountain bike con una starting list di oltre 1000 concorrenti. Sui tecnicissimi sentieri tra limone e tremosine si sono fatti dati battaglia a fior di olimponici delle ruote grasse. Altro punto di forza della Limone Extreme sono una location turistica di rara bellezza, ovvero riesce a convivere il fascino mondano del lungo lago e la verticalità di severe montagne che vagamente ricordano le grigne. Il tutto incorniciato da un clima mite secco che dà illusione estiva anche a metà ottobre. Se tali vantaggi si aggiungono a una ricezione alberghiera quasi limitata e la lungimiranza di amministratori locali che hanno saputo puntare sul volano del trail running per valorizzare turisticamente un'introterra tutto da scoprire, ecco spiegato il successo della Limone Extreme. Altri dettagli da tenere in considerazione nella bella favola di una gara che nel giro di pochissime edizioni è passate da poco più di 100 concorrenti al chiudere le iscrizioni ad oltre quota 900, presentando in astri partenza un livello mai visto prima con atleti provenienti da ben 34 nazioni, sono la pile del vertical in notturna, la competenza di un direttore gara come Fabio Meraldi e la decisione di correre la Sky il sabato così da poter proporre una gran festa di fine stagione. Anche per questa settimana è davvero tutto, giunti all'ultimo cambio, punta in alto senza paura!